Welcome back carissimi amici diciamo oggi due parole sulla dieta South Beach per rispondere a Denise che è curiosa di sapere il mio parere allora si tratta di una dieta proposta da un cardiologo author Eggleston il cui obiettivo originale era quello di proporre una dieta per prevenire le malattie cardiovascolari ma di fatto è poi diventata popolare come dieta dimagrante è un libro semplice di lettura veloce senza inutili fronzoli che va dritto al punto vi presenta i suoi concetti fondamentali e vi dice cosa fare per metterli in pratica il concetto chiave di South Beach è la qualità dei grassi e dei carboidrati come dice lo stesso Eggleston questa non è una dieta low carb né una dieta low fat in questo programma vanno bene i grassi e vanno bene i carboidrati purché si tenga presente che non tutti i grassi e carboidrati sono creati uguali al contrario bisogna distinguere fra zuccheri buoni e grassi buoni che sono ammessi e zuccheri cattivi e grassi cattivi che sono invece vietati i zuccheri cattivi sono quelli contenuti negli alimenti ad alto indice glicemico lo zucchero aggiunto i carboidrati troppo velocemente digeribili come quelli delle patate tutti i cereali raffinati inclusi panna e pasta e farina bianca al contrario gli zuccheri buoni sono i cereali integrali in generale degli alimenti a basso indice glicemico per quanto riguarda invece i lipidi i grassi cattivi sono i grassi saturi e i grassi trans mentre i grassi buoni sono quelli insaturi e soprattutto gli omega 3 e quindi oli semi oleosi frutta secca e pesce e queste sono le indicazioni che secondo l'autore bisogna seguire per tutta la vita stare alla larga dei grassi cattivi e dai carboidrati cattivi nel periodo di dimagrimento invece bisogna essere un po' più restrittivi per le prime due settimane i carboidrati sono quasi completamente vietati un po' come nella dieta atkins però non ci sono altri limiti si devono fare tre pasti più tre spuntini al giorno consumando liberamente i cibi ammessi fino a quando si è sazi dopo queste prime due settimane invece per tutto il resto del periodo in cui si perde peso sono reintrodotte la maggior parte della frutta della verdura e anche alcuni cereali integrali come vediamo perciò sembra una dieta abbastanza ragionevole non è troppo drastica per questo non necessariamente funziona per tutti soprattutto se ci sono dei problemi di resistenza metabolica al dimagrimento però è una dieta ragionevole sana e si è seguita bene a tutte le premesse per funzionare bene nella maggior parte dei casi e come promette l'autore non è soltanto una dieta che vi permetterà di controllare il peso ma anche di migliorare la vostra salute cardiovascolare ed ecco se vogliamo farvi un piccolo appunto forse proprio su questo manca un po' quella visione generale che potrebbe integrare le diverse prospettive dal punto di vista del mantenimento dello stato di salute lui è un cardiologo e giustamente si preoccupa di proporre una dieta che tuteli la salute cardiovascolare ma una dieta equilibrata non dovrebbe fermarsi lì perché come noi sappiamo la dieta ha anche le potenzialità per proteggerci da tumori malattie neurodegenerative osteoporosi ed altre seccature se anche questi aspetti fossero stati integrati nella dieta south beach sarebbe certamente stata una marcia in più però insomma non possiamo lamentarci sempre nel complesso direi che il giudizio è molto positivo e non avrei altro da aggiungere verifoodspaziosfera.com se volete porne un poesito tutto chiaro verifoodspazio